Buongiorno, diciamo che non sono esattamente in forma di 20 maggio, tra l'altro è una giornata in cui questa sera avrò per Quarta Repubblica, cioè la trasmissione qua che succede, questo video si vede malissimo, per Quarta Repubblica la trasmissione questa sera ci saranno sia Matteo Salvini, che mi sembra una giornata piuttosto chiave, sia Silvio Berlusconi. Matteo Salvini è un personaggio chiave di questa giornata per due ordini di motivi, perché la prima questione riguarda i PM e la nave Sea-Watch, è una storia incredibile, quello il ministro degli interni dice che non deve sbarcare, giusto o sbagliato che sia, comunque è il ministro degli interni che dovrebbe occuparsi di queste robe qua, e un PM cosa fa? Fa scendere dalla barca i 47 profughi, i 47 clandestini, oltre i 17 che già Salvini aveva fatto scendere per motivi umanitari. Insomma, in un paese normale, questo uno direbbe, ragazzi ma di che stiamo parlando? Per di più è lo stesso PM, patronaggio, che aveva indagato Salvini per sequestro di persone. Allora, vi potrebbe essere simpatico o antipatico Salvini, ma insomma è normale questo funzionamento dello Stato? Io trovo una cosa incredibile, la privazia anche sulla politica dei confini e dell'immigrazione da parte dei magistrati, che non solo decidono chi deve candidarsi, non solo arrestano Tatarella prima che viene, durante le elezioni, non solo decidono l'urgenza appunto di questo arresto tre mesi dopo la richiesta di arresti, sto parlando delle liste del Nord, insomma i magistrati decidono tutto praticamente, anche la gestione della politica di immigrazione, giusta o sbagliata che sia, mi sembra una cosa incredibile, incredibile. e vedremo questa sera, è ancora giallo perché è altrettanto incredibile il funzionamento di questo governo, Cassese oggi da par suo, sapete che un antigovernativo dice che questo è un governo che non ha avuto nessuna responsabilità nel gestire la cosa pubblica sul Corriere della Sera, però una cosa è certa, che sono 12 giorni che non c'è un consiglio dei ministri, che c'è questo decreto sicurezza che viaggia, bis, viaggia da un consiglio all'altro senza che si sappia se verrà approvato o meno oggi. e anche l'altra cosa che fanno in questi consigli dei ministri, salvo intese, dà probabilmente il senso di come intese non ce ne siano tra Movimento 5 Stelle e Lega in questo momento, chissà se questo avverrà dopo. Tra l'altro su questo decreto sicurezza, insomma oggi Gian Michele Sino dice bene sul giornale, ma non è soltanto lui, cioè l'ONU ha già deciso che vi sono degli aspetti che confliggono con i diritti umani, con i diritti dei cittadini, ma senza ancora averlo letto, posto che non l'abbiamo letto nessuno e posto che probabilmente non ci sarà neanche oggi il consiglio dei ministri. Questo comitato dell'ONU, peraltro guidato dalla socialista Bachelet, c'ha ben ragione, Michele Sino, a ricordarsi come non si è occupata di Maduro e del Venezuela, perché è amico suo e perché nel consiglio c'è, guardate un po' chi, l'ambasciatrice del Venezuela nel consiglio, è un'amichetta della Bachelet e si chiama Chavez, va bene? Lì i diritti umani sono perfetti in Venezuela evidentemente, così come sono perfetti negli altri componenti che bacchettano l'Italia, in Cina che è in questa commissione, Arabia Saudita che è in questa commissione, lasciate perdere l'assassinio di Cassoggi, ma non mi sembra uno di quei paesi che possa veramente decidere quali sono i diritti umani e prendere lezioni dall'Arabia Saudita con tutto rispetto verso le loro culture, però insomma andiamoci piano. Oppure facciamo la cosa che bisogna fare, cioè che l'ONU è una cagata pazzesca e non la dico da oggi perché c'è Salvini, la dico da ieri, da quando rompevano i coglioni, quelli dell'ONU, ad Israele per esempio, l'unico paese democratico in Medio Oriente o come dice oggi Canna in Asia Occidentale. L'altra grande questione di giornata sono i cattolici contro Salvini, qui il pezzo migliore è quello di Sallusti che dice probabilmente quella di Salvini con il Rosario è stata una esibizione furbetta, però anche quest'idea di quelle gerarchie cattoliche che si occupano di Salvini e del Rosario dopo che hanno sponsorizzato la DC, fatto vedere cosa che Dio ci vedeva nel segreto dell'urna, ma Stalin no. Cioè voglio dire adesso che i preti si scandalizzino per il fatto che qualche politico utilizzi strumenti diciamo che dovrebbero avere più a che fare con lo spirito, insomma è cosa piuttosto ridicola. Io aggiungerei che è piuttosto ridicolo leggere oggi di Famiglia Cristiana e l'Avvenire, che sono i nuovi manifesti, cioè i nuovi opposizione comunista, desinistra, cioè il peggio che voi potete immaginare oggi lo leggete su Famiglia Cristiana e sull'Avvenire. Il motivo per il quale io li leggo, perché la vera opposizione passa da là, ma non l'opposizione a Salvini che chi se ne frega, opposizione liberali, opposizione alla riduzione delle tasse, opposizione al controllo delle frontiere, opposizione diciamo quella che un tempo era quella catto comunista, cioè quella schifezza là la trovate su Famiglia Cristiana e sull'Avvenire. Insomma se voi pensate che i cattolici siano solo quella roba là, allora probabilmente vi scandalizzate di Salvini con Rosario, cosa che peraltro a me è piaciuta zero, cioè ma chi se ne frega del Rosario in piazza. Catiuscia Marini, la presidente dell'Umbria, prima decide di dimettersi perché beccata a raccomandare qualcuno e non chiede un'inchiesta, Zingaretti viene da me a Matrix e dice ha visto che bello, l'abbiamo fatta dimettere eccetera, ieri vota una mozione 11 contro 8, lei per prima votare dicendo che non si dimette più dalla presidenza della regione. pensava che dopo il primo annuncio fosse passato il casino, in realtà il casino rispetto alla nuova Mani Pulite per cui un'indagine fa sì che tutti debbano dimettersi non finisce qua, ormai il nuovo sistema è che i magistrati decidono la nostra politica dell'immigrazione e decidono ovviamente anche chi può candidarsi. Tutti contro Strache che è questo cazzone che faceva il vice cancelliere austriaco. simpatia per questo Strache pari a zero, tra l'altro si veste come peggio di me, insomma con sta maglietta a Ibiza, cioè il vice cancelliere austriaco, noi ce la prendiamo con i nostri uomini politici, ma lì dà il senso anche della pochezza di questo deficiente con la spia russa che gli fa dire delle cose incredibili, cioè fa il fenomeno sto Strache. Quando pensate ai politici austriaci seri, rigorosi eccetera, mentre quelli italiani sono dei cazzoni, beh ricordatevi sempre che cosa sia Strache e che cosa ha detto Strache in quel video, ma il punto fondamentale che mi stupisce è che i giornali italiani non si chiedono, Strache era un sovranista che ci stava sulle palle, non a me, ma a tutto il mondo, quello che vuole la chiusura delle frontiere e compagnia cantante, ma questo video, questa trappola, queste immagini, quali servizi segreti al mondo avevano in godimento e voglia di farli uscire? Quelli americani, dubito, quelli russi, dubito, i servizi segreti dei paesi democratici, i servizi segreti delle persone per bene, i servizi segreti di Cassese, i servizi segreti di Renzi, i servizi segreti di Berlusconi, i servizi segreti di quelli che non amano i sovranisti, è del tutto evidente che quei servizi segreti hanno creato la trappola e poi a una settimana delle elezioni europee le hanno fatte uscire, perché quelle immagini erano vecchie di due anni, ma le hanno fatte uscire non in concomitanza col voto che ci sarebbe stato poi a ottobre in Austria, immagini girate a Ibiza a luglio, con quella cagata di trappola che gli hanno fatto, non le hanno fatte uscire a beneficio delle elezioni austriche, ma lo hanno ricattato per le elezioni europee, quindi straordinario, come oggi noi non ci si interroghi, abbiamo rotto le scatole a Trump perché è stata condizionata la sua elezione, le russi e poi si è dimostrato non essere vero, abbiamo rotto le scatole a Facebook perché ci sono tutte le pagine con le fake news e adesso troviamo dei servizi segreti che organizzano una trappola, fottono il vice cancelliere austriaco sovranista e nessuno si dice ma scusate, ma come mai? Come mai? Che è successo a chi faceva comodo? Io la trovo straordinaria, nel senso che vanno bene soltanto quando si utilizzano queste armi contro i sovranisti, quando invece vengono... insomma avete capito cosa voglio dire, oggi sono troppo raffreddato per eccedere i commenti, la Meloni ha deciso di mollare il Cavaliere, qualcuno potrebbe dire ingrata, voi dite quello che vi pare, e Nordio invece è un bellissimo pezzo oggi sul Messaggero, cosa ci dice? L'ex magistrato dice c'è una cosa, su cui sicuramente si divideranno questi del Movimento 5 Stelle e la Lega ed è fuori di dubbio, ed è la giustizia, perché per ora hanno rimandato al 2020 questa cagata mostruosa che si chiama fine prescrizione dopo il primo grado di giudizio, compresa l'assoluzione, quindi io vengo assolto in primo grado e lì finisce la prescrizione, quindi sono fine processo mai, cosa che peraltro dice anche Nordio, però più politicamente Nordio che cosa ci dice? Attenzione che su questo i due non andranno mai d'accordo. Ultima questione, a tutti voi, a benefici di tutti voi, per che cosa votiamo, questi 751 parlamentari europei, che ruolo hanno e tutto quanto, stasera ci avremo l'ultima puntata di Quarta Repubblica, prima delle elezioni, mercoledì avremo Matrix, ultima puntata prima delle elezioni, domenica avremo lo speciale di Matrix su tutti i voti, oggi iniziate a informarvi con una paginetta semplice, semplice sul messaggero, che vi dice cosa serve o cosa non serve questo Parlamento europeo, più di quanto voi possiate immaginare. Noi ci vediamo questa sera a Quarta Repubblica, sperando di essere un po' un filo meno raffreddato, e do a tutti quanti voi un grande saluto. Ciao, a più tardi.